L'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico di Vicenza è una scuola che unisce innovazione tecnologica al futuro lavorativo per i ragazzi interessati alla robotica e all'informatica. I ragazzi dell'ITS hanno appunto realizzato al Maker Faire di Roma, tenutosi lo scorso 5 ottobre uno scala shot, ovvero un braccio robotico finalizzato alla ristorazione e ai bar, lounge bar ecc. Il braccio robotico preleva un bicchiere in posizione prestabilita e lo riempie durante il tragitto mentre sta per posizionarsi sul luogo d'arrivo. Il progetto ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Tecnico in un teamwork durato 120 ore. Di seguito l'intervista ad uno dei creatori del progetto. Ciao a tutti, siamo dell'ITS Meccatronico di Vicenza. Questo qui è un progetto che abbiamo realizzato nel percorso di team working con 120 ore a disposizione. È uno scala shot, è praticamente un robot finalizzato alla ristorazione che riempie i bicchieri durante il tragitto, li preleva appunto da una posizione di carico e li posiziona sopra al vassoio riempiti.